Ragazzi buonsi alle 7 day, allora come sapete Vabbè dopo la conferenza stampa farò un video Nel quale riassumerò un po' tutta la giornata, un po' tutta la settimana Nostra, i tifosi juventini Con Di Ronaldo alla fine Su Ronaldo più che altro, vabbè comunque a parte questo Come sapete bene, io sono contento della vittoria di Didier Deschamps di ieri Ok, perfetto Però adesso posso passare per razzista, per quel cazzo che volete Ma ieri si è parlato del successo del multiculturalismo contro il nazionalismo Guardate che cazzo è successo in Francia Si parla anche di due morti Il multiculturalismo Adesso non me ne frega un cazzo della Francia Perché hanno voluto quello e adesso si meritano quello Va bene, ma io l'Italia non la voglio così Ok, io l'Italia la voglio autoctona La voglio italiana Non me ne sbatte il cazzo di passare per razzista Io sono patriotico Ok, non voglio un'Italia così Se i francesi hanno voluto la Francia così Nella quale, in quel cazzo di paese adesso I francesi autoctoni sono praticamente ospiti Ok Io l'Italia non la voglio così Fine Ripeto Potrò passare per razzista Non me ne sbatte il cazzo Io sono patriotico e voglio un'Italia Prima di tutto civile E secondo italiana Ok Ciò non significa Non volere nessun extra comunitario e quant'altro Semplicemente Chi viene qua Deve adeguarsi alle leggi italiane Alla cultura italiana E non soprattutto fare il cazzo che vuole Perché ieri Praticamente Dopo la vittoria da Francia Sembrava anarchia Tutti pensavano Di poter fare il cazzo che volevano E soprattutto la maggior parte Da dove venivano Avevano origini Africane La maggior parte Ok Perfetto Io questo Quella cosa Quello che è successo in Francia Non voglio Che accada Mai Nel mio paese Mai Mai Per questo Io ammiro il lavoro che sta facendo Matteo Salvini Ok Sta cercando di rimediare le porcate fatte Dai partiti precedenti Dai governi precedenti Dai buonisti precedenti di merda Questo sta facendo E sta cercando soprattutto Di far si che non accada Quello che è accaduto in Francia ieri Perché festeggiare Non significa Spaccare le vetrine Non significa fare il cazzo che si vuole Perché quando l'Italia ha vinto il mondiale nel 2006 Non mi ricordo queste scene Mi ricordo magari Fuochi artificio Qualche incidente c'è stato di sicuro Ma gente Che Volutamente è andata Per spaccare vetrine Per rubare Roba e quant'altro Questo Io Personalmente Non me lo ricordo Non me lo ricordo Ok Perfetto Spero sia chiaro il mio messaggio Però Sono sicuro che dopo sto video Passerò per razzista Non me ne frega Un emerito Cazzo Io quelle scene lì Che ho visto in Francia Non le vorrò Mai Mai Vedere Qui in Italia Mai Ok Ci vediamo al prossimo video